è un'ora d'amore brava è un'ora d'amore gna 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 brava brava Valeria aveva ragione che se la mettete dall'inizio è difficile cioè mi stai rimproverando si dico rimproverando cambiare anche la tonalità ho capito qui mi rimprovera Peppe Vessicchio mi rimprovera la Marini io non lo so allora respira sei comoda? comodissima vai mosega vai vai no 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 gna gna era 50.000 eh 50.000 ma ma quante battute mi son venute bene però brava Valeria brava 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 secondo me però posso dire a Pamela a me dispiace eh però io l'ho capito tutte no ma secondo me Valeria ha pensato che era un'altra prova perché ha fatto tante posizioni tante pose tipo calendario calendario che scendeva era un mese il gennaio febbraio e in qualche modo ti devi mettere meravigliosa allora Vladimir tocca a te vai tu con Vladimir vai scoppia scoppia mi scoppia mi scoppia mi scoppia il cuore